Ok ragazzi, domani è la prima prova generale per FKD. Ciao a tutti! Vi ricordate la mia sorella italiana? Sì! Sì, ciao! Possiamo provare il rano nostro prima del ballo? Sì, certo! Sì! 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 mi no 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 ni sì I'd rather be When I am with you There's no place I'd rather be